Ciao ragazzi, oggi continueremo a parlare di monomi. In questo video ci soffermeremo più che altro su potenze di monomi, minimo comune multiplo, massimo comune divisore. Se avete perso il video con le cose iniziali dei monomi vi lascio il link qui sotto. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina qualora non l'aveste già fatto, cosicché potete essere sempre aggiornati sui nuovi video. Allora, come quarto punto, vediamo le potenze. Partiamo subito con un esempio, quindi prendiamo 2x alla quarta, y alla seconda, tutto elevato alla terza. Allora, come bisogna fare questa potenza? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il coefficiente che sta davanti, bisogna fare semplicemente la potenza, quindi 2 alla terza. Invece, per quanto riguarda la parte letterale, bisogna prendere gli esponenti e moltiplicarli tra loro, ovvero x alla quarta per 3 per y alla seconda per 3. Quindi il risultato sarà 2 alla terza. 2 alla terza significa che voi dovete prendere questo 2 tre volte. Quindi prendiamo 2 per 2 per 2 per x, 4 per 3, quindi 12, y alla sesta. Quindi il tutto sarà uguale 8, x alla dodicesima, y alla sesta. Come secondo esempio, invece, prendiamo un mezzo ab al quadrato tutto elevato al quadrato. Quindi, come dicevo prima, prendiamo prima il coefficiente davanti e facciamo quindi un mezzo tutto elevato alla seconda. Invece, la parte letterale sarà semplicemente la moltiplicazione degli esponenti. Quindi a 1 per 2 per b 2 per 2. Quindi il tutto sarà uguale 1 quarto a alla seconda per b alla quarta. Ricordiamoci che qualora, ad esempio, davanti a 1 mezzo ab alla seconda ci fosse stato un meno, quindi meno 1 mezzo ab alla seconda. Il tutto lo facciamo alla seconda. Ricordiamoci che quando ci sta un meno, questo meno deve essere elevato anch'esso al quadrato al quadrato, ovvero dovremmo fare meno al quadrato, poi un mezzo al quadrato, a alla seconda, b alla quarta. Quindi quello che volevo farvi vedere è che quando abbiamo questo meno bisogna elevarlo, quindi meno per meno otteniamo sempre più 1 quarto a alla seconda, b alla quarta. Quindi, diciamo come regola generale, possiamo vedere che il meno, se elevato a un esponente pari, allora sarà sempre più. Invece, qualora fosse elevato a un numero dispari, sarà sempre meno. Come secondo punto, invece, vediamo il minimo comune multiplo. Quindi scriviamolo qua, minimo comune multiplo. In cosa consiste però questo minimo comune multiplo? Allora, partiamo con un esempio e poi vediamo che cosa bisogna fare. Allora, 6a alla terza, b alla terza, c alla seconda, 4a alla seconda, b alla quarta, c e poi 3ab alla seconda. Allora, partiamo prima dei numeri. Quindi, per trovare il minimo comune multiplo dobbiamo prendere i numeri comuni comuni e non comuni con esponente maggiore, ovvero nel nostro caso possiamo vedere che abbiamo il 6 che sarà formato da 2 per 3, il 4 invece sarà formato da 2 per 2, quindi 2 al quadrato, e poi il 3 che invece è un numero primo. Allora, come risultato finale, quindi come minimo comune multiplo, dobbiamo prendere, ripeto, i numeri comuni e non comuni con esponente maggiore. Quindi prendiamo 2 al quadrato per 3. Invece, per quanto riguarda la parte letterale, anche in questo caso dobbiamo prendere la parte letterale comune e non comune con esponenti maggiori. Quindi prendiamo a alla terza, poiché vediamo che primo termine, secondo termine, terzo termine, tutte e tre avranno la a in comune, però l'esponente maggiore sarà il 3 del primo termine. Poi invece nella b vediamo che 1 avrà b alla terza, b alla quarta, b alla seconda, quindi prendiamo b alla quarta e la c, c alla seconda, per lo stesso motivo. Facciamo giusto un altro esempio, quindi prendiamo 9a al quadrato, 3ab, 6ac. Allora, come dicevamo prima, andiamo prima a scomporre i numeri. Quindi prendiamo il 9 che sarà uguale a 3 per 3, quindi 3 alla seconda. Il 3 è sempre un numero primo e poi abbiamo 6 che è uguale a 2 per 3. Quindi come numeri dobbiamo prendere il 3 alla seconda perché è quello comune, avrà esponente maggiore, poi prendiamo il 2 perché è presente nel 6 e quindi abbiamo finito la parte numerica. Invece per la parte letterale dobbiamo andare a prendere le lettere comuni e non comuni con esponente maggiore, quindi prendiamo a alla seconda per b per c, perché a, l'esponente maggiore è il 2 del primo termine, poi abbiamo la b e la c negli altri due termini. Infine, come ultimo argomento, vediamo il massimo comune divisore. Andiamo anche qui a scrivere, quindi massimo comune divisore. Allora, partiamo anche in questo caso con degli esempi per poi andare a vedere, diciamo, la regola. Quindi prendiamo gli stessi esempi di prima, ovvero 6a alla terza, b alla terza, c alla seconda, 4a alla seconda, b alla quarta, c e poi 3ab alla seconda. Allora, la cosa che cambia tra minimo comune multiplo e massimo comune divisore sta nel fatto che nel massimo comune divisore i numeri che dobbiamo prendere devono essere comuni a tutti i termini. Ad esempio, in questo caso, se sempre volessimo scomporli, quindi abbiamo il 6 che è sempre formato da 2x3, il 4 che è formato da 2x2 e il 3 che invece è un numero primo. Possiamo vedere che in questo caso nessuno dei tre termini avrà, diciamo, il numero comune, quindi per tale motivo non prendiamo nessun numero. Invece, per quanto riguarda la parte letterale, possiamo vedere che va presa sempre quella comune ma con esponente minore. Quindi abbiamo la a che sarà presente in tutte e tre, però l'esponente minore sarà a, quindi sarà solo 1. Invece, poi vediamo la b che sarà presente sempre in tutte e tre con esponente minore che sarà 2, invece la c non sarà presente, quindi non la dobbiamo prendere. Prendiamo anche l'altro esempio, quindi 9a al quadrato 3ab 6ac. Quindi anche in questo caso andiamo a scomporre i numeri. Abbiamo 9 che è uguale 3 per 3. 3 che è sempre un numero primo e 6 che è uguale 2 per 3. Quindi, diciamo, nella parte numerica vediamo che in tutte e tre vi sarà sempre il 3 in comune. Sebbene questo sia un 3 alla seconda, noi dobbiamo prenderlo anche in questo caso con esponente minore, quindi prendiamo semplicemente un 3. Invece, per la parte letterale andiamo a prendere a, che sarà presente in tutte e tre, con esponente più basso, ovvero l'1, che sarà qui sopra, ad esempio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video.